Buon pomeriggio telespettatori di Telequattro, benvenuti a un'altra settimana in compagnia di Trieste in diretta. Nella seconda parte avremo con noi il professor Stefano De Monte con cui parleremo delle migliori idee innovative nel settore scienza e vita. C'è stata una premiazione, vedremo meglio di che cosa si tratta. Nella prima parte è tornata a trovarci, sono sempre molto contento, Isabel Russinova che tra tutti i vari impegni trova sempre uno spazio ogni tanto per farci visita. impegni che da qualche anno a questa parte riguardano sempre donne eccellenti che però magari non sono molto note al grande pubblico e con il tuo lavoro tu cerchi anche di metterle in luce. è diventata una sorta di missione, io la sento davvero così e cerco di cercare, valorizzare, animare attraverso i racconti, attraverso anche racconti teatrali, anzi soprattutto attraverso racconti teatrali che poi metto in scena, figure femminili importanti, anche molto decisive sicuramente per momenti storici delicati, importanti, ma appannate dalla storia, un po' dimenticate. D'altra parte sono tanti i fatti e i personaggi che la storia, come dire, dimentica o così mette un po' da parte e penso che sia anche giusto e molto importante ogni tanto riportarli in vita. Ma come funziona, perlomeno per quanto ti riguarda? Cioè, detta così, non vorrei banalizzare, ti imbatti in un personaggio, vieni a conoscenza di questo personaggio, vai alla ricerca di testimonianze, fonti, eccetera, e poi costruisci, metti insieme uno spettacolo, una narrazione. Sì, diciamo che nel tempo ho anche affinato dei contenitori, ho anche ideato e affinato dei contenitori dove poter dare, diciamo, casa a questi personaggi. Per esempio una rassegna che si chiama Almas che si svolge tutti gli anni a Roma e che ha, diciamo, il compito di proporre al pubblico le grandi mecenate della storia, al femminile naturalmente. Ecco, in questo caso, per esempio, la mia ricerca si muove tra quelle che la storia ha donato all'umanità appunto come mecenate, come donne che attraverso il mecenatismo hanno dato molto alla comunità, alla società del loro tempo. Oppure ecco, il festival che oramai, questa sera l'ottava edizione, portiamo tutti gli anni in scena e che ha come protagonista i diritti umani raccontati attraverso le arti che ogni anno hanno un tema specifico e in questo contenitore, oltre a parlare di cinema, fare delle conversazioni per le letterature, eccetera, eccetera, ospitare autori, autori, attori, registi, eccetera, eccetera, c'è anche uno spazio proprio dedicato al teatro e dove spesso vengono valorizzate, per esempio, le grandi donne della storia, della rivoluzione, diciamo, di quelle donne che attraverso il loro sentire hanno sicuramente tracciato un percorso proprio della storia, soprattutto per quanto riguarda i diritti, importante. Ecco, per dire, insomma, d'altra parte anche ti ricordi qualche anno fa proprio a Trieste attraverso una rassegna che si chiamava lei, ho cercato di animare dei personaggi che parlavano dei diritti rivolti al femminile. Allora, noi abbiamo delle immagini che riguardano appunto gli impegni di Isabel Rucinova, io direi alla regia, così evitiamo le gaffe, vediamo quello che parte e poi dopo parliamo, perché così siamo più sicuri e non facciamo brutte figure. Vediamo allora il primo dei contributi che dovrebbe partire e poi vediamo, eccolo qua, io già lo vedo. Ecco, queste sono le mie illustrazioni, sì. Questo racconta la mostra personale che ho fatto a Roma, che si chiamava Fate, Spiriti, Amore, Fate, Amori e Spiriti, e raccontava attraverso un percorso di illustrazioni che hanno accompagnato o spettacoli teatrali o per esempio le illustrazioni che accompagneranno il volume di Dario Fertiglio in uscita che si chiama 50 stati d'amore e che sono delle poesie d'amore e lo scrittore mi ha incaricato di illustrare le sue poesie e così io ho appunto costruito queste immagini dedicate alle sue poesie, ecco per esempio questa è uno di questi. Ma guarda, io devo essere sincera, il disegno è sempre stato un, diciamo, mi è sempre appartenuto, è stato uno strumento che ha accompagnato la mia fantasia, i miei pensieri. Fin da bambina era molto facile vedermi in tenta disegnare mentre pensavo oppure avere una, come dire, una visione rispetto a un pensiero oppure proprio commentare una cosa che mi aveva colpito. Lo facevo così da sola, ma credo che magari è una cosa molto comune anche ad altre persone, diciamo che per me, diciamo, faceva, ha sempre fatto parte. Però non intendo, come dire, illustrare le poesie, in questo caso, di un'altra persona è più difficile o fondamentalmente, se uno viene colpito, diciamo così, da un'emozione particolare? Esatto, io, esattamente questo, cioè la poesia ti fa scaturire, no? Un'emozione, un pensiero, quindi, che ha alla fine un'immagine. Poi è un po' come quando legge un libro, ognuno... Vede il proprio film, no? Immagina i volti dei protagonisti, è un po' così anche con le poesie. Le emozioni per ognuno di noi diventano comunque delle immagini. Quando, anni fa, adesso ho cessato, ringraziando Dio, perché sennò andava a finire, io quando cominciavo a leggere un libro, specialmente un romanzo, le prime due giorni dovevo affidare ai personaggi del libro, dovevo identificarli con degli attori e poi dopo mi facevo proprio il film. Poi dopo, a un certo punto, devo finirla con sta storia, perché sennò va a finire che magari godo meno quello che leggo, perché chi potrebbe fare questo ruolo, chi potrebbe fare quella... E delle volte poi capitava, magari, che se da un libro che sceglievano, è capitato un paio di volte, perché magari poi certi romanzi moderni di letteratura, come dire, abbastanza di consumo rapido, secondo me sono anche, come dire, scritti avendo in mente un attore piuttosto che un altro. Certo, perché molte volte poi diventano film. Però, guarda, è una cosa curiosa, ne parlavamo proprio qualche giorno fa, ma i nostri sogni, noi tutti sogniamo, e quei personaggi dei sogni sono personaggi che magari non fanno parte della nostra vita, hanno dei volti però, sono delle persone che magari non abbiamo mai incontrato, eppure hanno dell'espressione degli occhi, delle voci, dei timbri particolari di voce, ed è curioso, infatti mi domando, ma chi sono quelle persone che esistono solo nei nostri sogni? Comunque, diciamo, per quanto riguarda la fascinazione dopo una lettura che diventa immagine, non lo so, per me viene naturale avere una… e quindi alla fine questa cosa è diventata poi, ecco, protagonista di quella che poi ho deciso di condividere anche con il pubblico attraverso questa prima, anche attraverso questa prima personale che ho fatto, che devo dire mi ha dato molte soddisfazioni, perché insomma ho visto che ha procurato, diciamo, interesse, domande da parte di chi appunto guardava queste immagini e aveva voglia di domandarmi delle cose. Sono anche immagini, da quello che abbiamo visto, sono anche immagini, come dire, molto… lasciano… sono alcune, logicamente, volutamente incomplete, nel senso che poi lasciano spazio anche a chi le vede per immaginare qualche cosa in più. Le cose che ti… Sì, ce n'è una particolare, ma questa è abbastanza… Lei è Berenice, per esempio, è la principessa giudea che voleva… Questa è la Duse, questa anche appunto ti lascia poi… Sì, sì, sono dei tratti, delle fascinazioni… Ah, la Duse, immaginavo che fosse un'attrice perché… Sì, questa invece appunto fa parte del volume di Fertiglio, ma diciamo è una specie di storyboard del nostro… dei nostri… Ecco, questa è quella proprio che… Questa, sì, questa descrive… questa è la Olga Brunner, è un personaggio triestino, una mecenate che… Come dicevamo prima. Sì, sì, sì. Oh, poi l'altro contributo invece si riferisce proprio ad un'altra di queste donne appunto… Speciali. Speciali, ecco, speciali è meglio ancora, che tu hai… Brutto dire, scovato, insomma, che tu hai conosciuto artisticamente, insomma, ed è la mamma di Calvino, che è una botanica. Sì, sì, sì. Eva degli Iris è questo film documentario che con Rodolfo Martinelli Carraresi abbiamo proposto e uscirà, diciamo, in autunno. Beh, somigliava il figlio, le somigliava, mi parlo di capire adesso. Sì, eccolo, vedi, vedi. Lei, Eva, Mameli Calvino, lei è raccontata attraverso le diverse discipline, il teatro, perché è stata anche una pièce teatrale che ho portato in scena, la fiction, interpretata da due Eva di età differente per poter raccontare il suo percorso di vita, che è stato molto intenso, i documenti, la parte documentale, la musica, che ha un altro… e poi anche dei contributi scientifici di scienziate italiane che oggi la raccontano e da cui hanno naturalmente attinto molto, non soltanto per quello che ha saputo dare alla botanica, per dire uno degli tanti aspetti interessanti di Eva, se Sanremo noi oggi la conosciamo come la regina dei fiori, lo dobbiamo a lei, che ha sviluppato appunto il grande repertorio appunto di rose, al tempo di Eva c'erano metti duemila, adesso non so esattamente, non ricordo esattamente il numero preciso, ma c'erano, non lo so, poche specie di rose, adesso ne abbiamo quattromila, cinquemila specie di rose diverse che sono frutto dei suoi studi, dei suoi innesti, insomma del suo lavoro di scienziata, ma è tanto quello che lei può raccontare appunto come scienziata, come ornitologa, come scrittrice, anche come educatrice, perché nella sua vita si è molto adoperata per far sì che i giovani potessero appassionarsi alla botanica, all'ornitologia, spiegando appunto di come anche il rispetto della natura e degli animali è connessa con il nostro benessere e va difesa e conosciuta. Allora, non a caso c'era la Duse, perché tu sarai qui a settembre? Sarò il 7 settembre al Museo Sartorio con uno spettacolo dedicato alla Divina, che è considerata come sappiamo la più grande attrice contemporanea, però diciamo descritta e raccontata in una maniera molto intima, anche cercando di valorizzare quegli aspetti che meno si conoscono di lei, la Duse attivista, la Duse femminista, la Duse molto proiettata appunto a difendere e a valorizzare il femminile, il rapporto che aveva anche con le altre donne del suo tempo importanti come la Serao per esempio, insomma una Duse molto molto davvero moderna, come donna, come personalità, non soltanto come attrice di grande faccia. Non c'è niente, mi sembra, a parte che non potrebbe perché credo che lei sia scomparsa prima dell'avvento del… Il 24, sono 100 anni adesso. Ah ecco, sono 100 anni, quindi non c'è niente che… o ci sono delle registrazioni, no. Allora esiste solo un film, Cenere, che… Bellissimo romanzo della Deleida, fra l'altro. Esatto, altra compagna, diciamo di… insomma amica e compagna di lavoro, di teatro della Duse, sì c'è questo film molto molto interessante, l'unico film che devo dire lei da donna coraggiosa come era, ha deciso di fare, allora il cinema era qualcosa di davvero veramente molto così sconosciuto, poco frequentato, è stata anche molto affascinata dal coraggio che lo stesso D'Annunzio ha avuto per il cinema, che è stato uno dei primi estimatori e anche ammiratori e ha intuito che il cinema sarebbe stato il linguaggio del domani. Tra l'altro non mi ricordo adesso nella biografia di quale attrice statunitense, fra l'altro perché poi la Duse ebbe anche… insomma portò la sua arte anche in giro per il mondo, quindi insomma… È una delle attrici che più ha viaggiato con il teatro e più ha fatto conoscere il teatro italiano nel mondo e guardo ho avuto proprio la prova di questo per esempio quando sono state in Egitto con uno spettacolo su D'Annunzio dove c'era anche naturalmente una finestra aperta nei confronti appunto di quella che è stata una delle figure più importanti per entrambi, per D'Annunzio la Duse e D'Annunzio per lei e come in Egitto il pubblico che ha assistito allo spettacolo ha sottolineato questa cosa della Duse e appunto ricordando che era spessissimo in turnie… Ma mi sembra, credo adesso non voglio dire, credo Catherine Hepburn che ebbe modo di vederla e rimase abbastanza folgorata dalla… Di questo episodio non ti so dire… Di questo non lo so, devo dire la verità non so chi, comunque si tratta comunque di una grande attrice o la Hepburn o la Davis… Forse la Hepburn era un po' troppo, un tanto giovane dal momento che… dunque la Duse è scomparsa nel 24 in turnie a Pittsburgh dove era in scena… Quindi la Hepburn era del 7, poco probabile, so che qualcuno di importante ebbe modo di vederla e rimase appunto strabiliato da questa… oltre che a Lucchino Visconti lì c'è una… Non so, mi viene da pensare forse Chaplin, non lo so, comunque sicuramente… Può essere… Può essere… Può essere… È stata comunque una… e mi dispiace quando… ecco… ero diciamo… per un attimo ero indecisa perché dicevo ma la Duse è talmente tanto grande e io ho appunto questo desiderio poi di valorizzare chi è un pochino più in ombra di lei, però invece mi sono accorta che non tutti i giovani la conoscono, che c'è… vabbè qui apriamo… ecco… che c'è comunque nonostante la sua grandezza c'è comunque una… c'è bisogno di raccontarlo… certo si fa tanto, si è fatto e si farà e si sta facendo tanto in quest'anno che appunto è il centenario… È l'anno del centenario… Sì… Però non è mai abbastanza per ricordare… Questo è un anno importante tra l'altro di compleanni notevole… C'è notevole… Sì… Sì… Vari centenari… Vari centenari… Sì… c'è anche il centenario tra l'altro a settembre se non mi sbaglio della nascita di Mastroianni… Sì… Quindi insomma… Sempre a settembre la Loren compie 90… non è un mistero per nessuno… non è che si va a… insomma è un… è un anno particolare di… 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 è abbastanza importante per le… oh… tra l'altro questo mi dà… mi dà il… mi dà come dire la possibilità di fare un'altra domanda che riguarda proprio la… la recitazione, no? Nel senso… Allora… posto che… soprattutto per quanto riguarda determinati… determinati attori e determinate attrici purtroppo cinematograficamente parlando noi siamo un po' condizionati dal doppiaggio, no? Perché insomma… il doppiaggio specialmente in alcuni anni imponeva determinati stili eccetera… per cui… vedo però che… ripeto… parlando di cinema… è incredibile come delle attrici di parecchio tempo fa… magari ritenute sorpassate per certi versi… se poi vai a vederne i film e a sentirli in lingua originale… dici… accidenti… ma questa recita come… una di queste per esempio è la Crawford… noi siamo abituati anche per via del… come dire… dell'aspetto stesso… della Crawford… della voce di Tina Latanzi che era il trionfo del Birignao eccetera… dici… boh… questa è inascoltabile… adesso… la senti in lingua originale come la Garbo tra l'altro… e dici… accidenti… qui c'è qualcosa che… 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 che va avanti… che non le connota nella… nella loro… negli anni in cui erano… erano attive… è curiosa come… come… guarda lo sai… sì… assolutamente… allora… a parte il fatto che… io sono una estimatrice dei film in lingua originale… anche quando la lingua non la… pratichi… non la conosci… sempre meglio… sempre meglio… ma guarda… prendiamo per esempio… ecco… continuiamo anche… per un attimo… a parlare della Duse… purtroppo non abbiamo… molto materiale… della sua recitazione… il film… il film… abbiamo… pochissimo… pochissimo di lei… ma… quello che ci viene raccontato… della sua recitazione… è questo sì… era… il fatto che… la Duse… aveva una recitazione asciutta… molto… molto vera… la Duse per esempio… in scena non si truccava mai… cercava anche di… e per questo amava… il teatro contemporaneo… valorizzando soprattutto… valorizzando soprattutto anche la… la Dramaturgia delle nuove autrici… perché… cercava quella verità… quindi era assolutamente… lontana… da qualsiasi tipo di… fronte sì… e aveva la… 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 la forza di… ammagliare il pubblico con la sua verità… quindi il pubblico restava… eh… incollato… attento… ad ascoltarla… ad ascoltare le… eh… la sua verità… nonostante… lei per esempio… sono famose… le sue pause… no… lei… si fermava… con un'intensità… talmente tanto… eh… ricca di energia… eh… per finire una frase… sì… tutti restavano così… tutti restavano così ad aspettare… la fine della frase… con una pausa… talmente vera… talmente autentica… che… quindi… ehm… sicuramente ecco queste… questo… 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 birignao… fa parte di una moda… sì… che il doppiaggio ha portato… certo… visto in quell'epoca… sono anche… eh… cioè… è un doppiaggio… perfetto per quell'epoca… certo… per quell'epoca… poi dopo appunto… c'è il rischio… nell'originale… dell'originale… esatto… laddove… non credo siano mai stati fatti i paragoni… perché… come dire… tutto è disomogeneo… però molto probabilmente… se esiste un corrispettivo cinematografico della Duse… forse va cercato nella Magnani… credo di sì… ma cinematograficamente… sì… 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 non a teatro… credo di sì… laddove… la Magnani mi dicono… quelli che hanno visto che a teatro era un po'… caricava un po' troppo… per dire la verità… beh… lei… anche perché… era anche molto… eh… forte… diciamo… come… come presenza… però sicuramente questa verità… questa pulizia… questo… eh… farsi… imporsi per… per così com'è… per così com'era… sì… senza… eh… senza… niente che potesse farla diventare un'altra… no… ma anche i suoi personaggi… erano i personaggi… che però respiravano della sua… della sua… verità… e… e quindi erano… le tante Duse… che diventavano i tanti personaggi… una specie di transfert… magnifico… che appunto… la resa… unica… anche perché… in teatro è sempre più difficile un discorso… come dire… di… di… di verità pari a quello che si può avere nel cinema… se non l'altro… perché la tecnica è… è diversa… quel poco che basta… a… cioè in teatro si dice… per amore di Dio… che si carica… per forza di cosa… perché magari… deve arrivare… anche… perché… quando arrivi alla… all'essenziale… a teatro… si vede che sei proprio di fronte alla… penso alla perfezione… probabilmente… sì… sì… perché… perché… perché un attore insomma è questo che deve… deve pensare di… far passare… una verità… di un personaggio che… è vita… è vitale… no… non deve pensare… non deve pensare… a se stesso… personaggio… ma deve pensare… a restituire… dignità… a qualcosa… che è vivo… e che deve portare in scena… ma… Mastroianni diceva che… eh… l'attore dovrebbe avere un terzo occhio… che… ti consenta di… guardarti… mentre… mentre… reciti… e nello stesso tempo… di dirti anche… oh… basta… vedi di… vedi di… ma è così… è così… è così… è così… è così… è così… in quelli che pensano di dire le cose… pensando a se stessi… sì… come… attori… no… come… come… eh… crogiolandosi nella loro immagine… ecco… quello… è una cosa che un attore non dovrebbe mai fare… però anche… anche in questo caso… delle volte… mh… hai delle… hai delle… hai delle sorprese… perché… per esempio… eh… molti… come dire… opinano… sullo stile… tonitroante di… chartoneston… eccetera… 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 io ho visto… una versione di Giulio Cesare… per il cinema… con chartoneston… e devo dire la verità… che… adesso dirò una roba… che sembra una bestemmia… ma… paragonata… al Giulio Cesare… con Marlon Brando… io preferisco… mille volte… il Giulio Cesare… di chartoneston… probabilmente perché… probabilmente è perché… mi aspetto… di… eh… di… di personalità… di… di personalità… insomma… quello… del Dux…. aveva una sua… si…. piuttosto che… piuttosto che… una… piuttosto che una… come dire una… 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 una recitazione a sottrarre… che a me piace… ma non in… non in… in determinati contesti… stipende… nella… sì… dipende… poi anche da… nei… beh sì… io sai Marlon Brando non si tocca no infatti no so che giustamente perché basterebbe io ci do sempre come si chiama ultimo tango a Parigi secondo me là è una roba è una roba meravigliosa ancorché quello che poi si dice sul film ultimo tango a Parigi è forse una delle interpretazioni più perfette meglio ancora del padrino secondo me sì il padrino che era lui la sua stanchezza la sua vita passava tutto su quel volto un po' masticato un film meraviglioso che di fatti volevano anche bruciare ma questo come diceva il barman di Irma la dolce è un altro discorso allora questo appuntamento siamo già in chiusura questo appuntamento lo ripetiamo è al 7 il 7 di settembre ma spero che insomma avremo l'occasione di riparare di parlarci sicuramente sicuramente grazie allora Isabella Russinola grazie a voi come sempre per essere stata con noi buon lavoro grazie mi raccomando e adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento seconda parte di Trieste in diretta e con noi il dottor Stefano De Monte direttore del cluster Scienze della Vita grazie per essere tornato nei nostri studi oggi parliamo delle premiazioni insomma del riconoscimento che è stato attribuito ad una serie di idee innovative proprio nel settore Scienze della Vita dal cluster stesso intanto che cos'è il cluster? allora inizierei forse cos'è Scienze della Vita poi arriviamo sul cluster ecco Scienze della Vita sono un insieme appunto di scienze che partono dalla biologia all'ingegneria alla medicina all'ingegneria biomedica alla chimica che riguardano in sostanza il benessere dell'uomo degli esseri umani e quindi noi ci occupiamo in larga maniera di questo tipo di attività quindi in maniera molto trasversale la nostra attività è incentrata nel Friuli Venezia Giulia il cluster è il cluster è la definizione la traduzione dall'inglese di grappolo noi in sostanza raggruppiamo tutto un insieme di realtà del Friuli Venezia Giulia che si occupano in vari modi di Scienze della Vita quindi partiamo da numerose aziende ce ne sono oltre 170 alle nostre tre università ad altri centri di ricerca parchi scientifici enti nazionali di ricerca istituti di ricovera cura carattere sperimentale istituti tecnici superiore academy quindi abbiamo una grande varietà di entità che si occupano di questo settore che è delicatissimo e importantissimo e che fa molta ricerca sul nostro territorio noi vogliamo valorizzare questo sistema lo vogliamo far crescere e per questo noi siamo un cluster gestito dal polo tecnologico alto adriatico ma siamo diciamo sotto la guida della regione Friuli Venezia Giulia è la regione che in sostanza a tutti i livelli ha identificato questo settore come un settore strategico e quindi ha dato noi la missione di valorizzarlo e di farlo crescere come vengono inserite eventualmente nuove realtà nel cluster allora le realtà esistono già storicamente perché abbiamo un territorio molto 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 ricco non c'è una un'adesione formale o burocratica diciamo noi abbiamo tutto un insieme di contatti che seguiamo abbiamo anche un comitato tecnico scientifico nel quale tutte queste realtà sono rappresentate sono presenti è un comitato che ci permette di avere un link molto forte con tutti questi attori molto molto importanti che parlano ognuno la propria lingua che hanno ognuno un proprio canale di finanziamento e che noi cerchiamo nel nostro piccolo con tutti i nostri limiti di coordinare per quanto riguarda perlomeno alcune attività sul territorio della regione perché questo è la volontà della regione stessa di avere questo coordinamento le realtà appunto le idee che sono state riconosciute è un è qualche cosa che si verifica ogni anno è una specie di voglio dire concorso magari è brutto ma potrebbe essere anche appunto un appuntamento chiedo scusa per il gioco di parole che si rinnova anche per come dire fare il il punto è sempre un gioco di parole mi rendo conto non esco della situazione ecco questo parte nuovamente da una scelta della regione di puntare su questo settore e quindi di investire su questo settore già con alla termine del 2022 con la legge di stabilità 2023 la regione aveva già stanziato inizialmente i primi 10 milioni al quale poi sono stati aggiunti molti altri oramai stiamo diciamo stiamo parlando anche ieri nella diciamo premiazione l'assessore ha parlato fino a 28 milioni in sostanza di risorse nei prossimi anni disponibili alcune delle quali sono già operative ecco con queste risorse c'è stato dato l'incarico di dare un contributo di idee e di strumenti da attivare e noi in stretto contatto proprio con la direzione lavoro ricerca formazione abbiamo cercato di dare dei suggerimenti ne è uscito un regolamento quadro quindi delle regole generali su vari strumenti che abbiamo identificato e che c'è stato dato poi come mandato di gestire in modalità bando in sostanza ecco per mettere in campo questi incentivi e ci sono varie tipologie che sono state studiate con una logica di complementarietà questo di cui stiamo parlando oggi è proprio la prima fase noi abbiamo avuto la fortuna e la fiducia della regione nei nostri confronti di farci gestire tre strumenti molto importanti che attualmente sono stati già tutti quanti finanziati poi c'è un quarto strumento che la regione fra poco metterà in campo e che gestirà in maniera diretta e autonoma ecco questi strumenti li possiamo catalogare in tre step il primo è questo che siamo andati a realizzare l'altro giorno è una call for ideas per idee innovative portate avanti da start up e piccole e medie imprese in ambito scienze della vita quindi una tematica molto ampia ma di grande impatto naturalmente per il cittadino che ha voluto far emergere tutta una serie di realtà già presenti sul territorio piccole imprese che magari avevano tanti progetti idee nel cassetto ma che ha messo in moto un sistema più ampio di attrattività di altre iniziative provenienti da fuori regione ho capito questo diciamo il premio il premio è stato un premio in denaro di a fondo perduto di 10 mila euro diciamo è sicuramente importante per attrarre in questa prima fase sono arrivate molte aziende anche da fuori da fuori regione questa è la cosa interessante perché questa è un piccolo una piccola verifica di quanto è attrattiva questa regione per vari motivi ecco poi magari volendo possiamo approfondire è la cosa interessante che queste imprese che vengono da fuori da fuori regione avranno la possibilità di ricevere questo premio e l'hanno fatto ma questi vincitori potranno accedere al secondo tipo di bando barra avviso cos'è questo tipo di bando è un qualcosa che è uscito praticamente ieri è la seconda fase in cui queste idee che sono state premiate possono essere messe in pratica sul territorio regionale assieme a dei partner locali quindi questo è proprio un tipico esempio di contaminazione di idee che vengono anche dall'esterno e che vogliono far crescere fondamentalmente il territorio ecco questi sono i primi due due strumenti strettamente legati fra loro che hanno diciamo già preso il loro corso la percentuale di imprese provenienti da fuori regione hanno applicato 65 imprese fondamentalmente quindi parecchie perché il tempo di apertura del bando insomma erano due mesi quindi c'è stata una notevole adesione ecco diciamo il 48% provieniva da fuori regione come sede principale alcune di queste avevano anche già esperienze presso di noi però bisogna anche trattenerle queste realtà e quindi questo diciamo era l'ottica di questo tipo di premio che noi abbiamo voluto dare le realtà premiate noi giornalisti dobbiamo sempre cercare mi rendo conto che delle volte è anche impossibile ma dobbiamo sempre cercare il filo rosso intorno a varie a tutte quante le cose c'è qualche cosa che collega seppur magari in maniera anche in diretta i progetti le idee che voi avete visionato direi di sì innanzitutto noi abbiamo identificato quattro grandi categorie di attività che noi seguiamo ripeto come come mandato una diciamo è tutta la parte del sviluppo di nuovi farmaci l'altro è lo sviluppo di sistemi biomedicali o medical device quindi un campo molto molto vasto anche il cerotto è un medical device per intendersi dopodiché abbiamo un settore dell'ambient assisted living cioè un qualche cosa che riguarda tutta l'assistenza alla fragilità e all'anziano e dopodiché abbiamo un settore della nutraceutica e dell'alimentazione funzionale che è anche molto molto importante ecco ci sono state adesioni in tutti questi in questi quattro settori la parte in comune di tutte le realtà è che comunque l'attenzione è stata sull'essere umano sui benefici che possono arrivare per l'essere umano tramite attività di ricerca tramite realizzazioni di alcuni device o di diciamo pratiche e uso di intelligenza artificiale quindi l'obiettivo è questo in sostanza allora lei diceva prima che la presenza di realtà che vengono anche da fuori regione testimonia anche dell'attrattività del nostro territorio un'attrattività che credo si basi non solo non esclusivamente sul numero di realtà anche scientifiche che vivono ed operano sul nostro territorio cioè questo è un dato però deve esserci anche dell'altro sì la collaborazione tra queste realtà è quello che noi chiamiamo ecosistema l'ecosistema dell'innovazione è una bella parola però vivendolo si vedono delle collaborazioni che noi cerchiamo di promuovere proprio tra delle aziende che magari non conoscono l'istituto di ricerca che sta a padriciano e l'azienda sta in quel di Basaldella per dire una località a caso quindi questo è un qualcosa di molto importante tanto più poi se questo lo ampliamo come raggio e vediamo che anche all'esterno della nostra regione ci sono tante possibilità di collaborazione ed è proprio per questo molte aziende che hanno applicato che hanno vinto hanno necessità di collaborare con o altre aziende molto più grandi o qualche diciamo entità di ricerca il nostro compito sarà quello di fare questo matching in sostanza di farli incontrare questo è diciamo lo scopo di queste due di queste due fasi poi dicevamo c'è una terza linea diciamo di intervento ed è quella rivolta un po' più verso il mercato perché sappiamo che la nostra regione ha beneficiato tutte le realtà hanno beneficiato di molta attenzione molti progetti di ricerca la regione è sempre stata molto attenta e ha investito notevolmente in ricerca in tutti i settori anche in questo e spesso e volentieri i risultati della ricerca restano in un qualche cassetto nel senso che hanno difficoltà poi arrivare veramente al mercato allora uno sforzo che abbiamo fatto è quello di diciamo identificare uno strumento che ci permetta di incentivare l'ultimo o il passaggio finale o per lo meno di avvicinare questo tipo di progetti o prodotti non ancora terminati verso il mercato abbiamo identificato un parametro che si chiama TRL che è il Technology Readiness Level in sostanza è un parametro di maturità tecnologica di quello che uno sta progettando va da uno fino a otto o nove ok uno siamo nella fase proprio di idea il nove siamo sul mercato quello che noi attualmente usiamo ora c'è una fase finale che è difficile qualche volta da superare perché non ci sono i finanziamenti o perché richiedono degli investimenti notevoli ecco questo tipo di intervento aiuta ad elevare questo TRL l'obiettivo nostro minimo è quello che i progetti devono arrivare a un TRL 6 7 oppure 8 che quindi siamo molto vicini al mercato cioè il prodotto va provato prima in un ambiente che simula l'ambiente reale dopo sempre di più vicino al caso diciamo di tutti i giorni fino ad arrivare sul mercato allora fino a un certo punto noi cerchiamo di aiutare questo percorso attraverso degli incentivi molto interessanti partono da 200 mila euro i contributi per i progetti di ricerca e sviluppo che arrivano alla TRL 6 ben 400 mila euro per quelli che arrivano al 7 e ben fino a 500 mila euro a quelli che arrivano all'8 poi ci sono dei tecnicismi sulle percentuali di aiuto e di contributo che vengono date naturalmente queste diminuiscono per le regole europee mano a mano che ci si avvicina al mercato però sono delle cose molto interessanti ecco e per finire questo tipo di intervento è stato aperto proprio ieri il primo luglio quindi oltre alla premiazione abbiamo aperto questo sportello e ci sono già notevoli adesioni quello che chiediamo naturalmente è che questo tipo di attività visto che i fondi nuovamente sono della regione Friuli Venezia Giulia siano spesi in regione e quindi le aziende oppure diciamo gli enti che partecipano devono essere presenti e residenti in regione perché questa è una ovvia ricaduta in sostanza ecco questo è un quadro generale che ieri è stato anche disegnato durante la premiazione dell'assessore Rosolen che diciamo è il promotore di questo genere di interventi e quindi noi cerchiamo di seguire con una scaletta molto stretta di tempi tutto questo Lei ha detto prima ha sottolineato un dato che è fondamentale per quanto riguarda la ricerca ma vedo più o meno tutto cioè il fatto che ci sia appunto che ci sia collaborazione cioè che ormai non ci sono più adesso dico anche forse delle banalità non ci sono più orticelli ormai è tutto una collaborazione che tocca vari aspetti insomma e penso che non si possa più tornare indietro assolutamente noi la vediamo e la proviamo sulla nostra pelle anche perché come cluster facciamo parte anche di un raggruppamento nazionale di cluster scienze della vita quindi vediamo cosa succede anche negli altri territori la cosa positiva è che stiamo creando dei legami anche con gli altri territori perché non basta essere diciamo eccellenti ma isolati e quello che abbiamo rilevato che è molto interessante è che il nostro sistema anzi ecosistema è molto complementare dagli altre realtà molto importanti che stanno a Milano piuttosto che in Piemonti piuttosto che in Toscana o in Campania per cui la possibilità di collaborazione ma win-win in sostanza c'è un caso pratico che riguarda proprio le le start-up chiamiamole che non erano solo start-up ma erano anche imprese con qualche annetto di più ecco molte di queste provenivano appunto da queste regioni da dei bacini da dei cluster simili ai nostri con i quali noi abbiamo lavorato e collaborato diciamo noi abbiamo ottenuto che le loro imprese venissero applicassero al nostro bando e fossero disponibili a insediarsi qui analogamente loro sono molto interessati a collaborare con degli enti ed entità di ricerca molto particolari che sono in questa regione e quindi avere anche loro un vantaggio allora questo nell'epoca della competizione globale bisogna fare un sistema molto forte localmente il nostro ecosistema regionale Friuli Venezia Giulia e essere aperti e competitivi rispetto agli altri territori allo stesso tempo in modo tale da poter fare quelle collaborazioni che ci permettono di fare massa critica rispetto degli altri sistemi esteri parlo di Austria Germania per esempio per parlare in Europa e anche in Francia che sono qualche volta finanziati in maniera molto più cospicua ma che non hanno le nostre caratteristiche quindi noi riusciamo avendo dei buoni finanziamenti a livello europeo nazionale ma soprattutto in questo momento anche a livello regionale a essere competitivi su tutti questi fronti avendo un buon sistema e avendo anche le risorse per poter quando si è incominciato a ragionare in tal senso secondo lei c'è un momento a partire dal quale oppure ci si è arrivati per certi aspetti gradatamente ci sono alcuni alcuni diciamo alcuni momenti sicuramente il covid è stato una grande un grande momento di riflessione e questo ha cambiato alcune cose ma questa è una cosa tutto sommato recente ma ci si resi conto innanzitutto che bisogna puntare su delle specializzazioni e devo dire che anche qui abbiamo dei territori le amministrazioni che sono state diciamo lungimiranti in questo in questo in questo senso e che hanno fatto trovare il territorio degli strumenti legislativi e finanziari pronti nel momento che dovesse servire perché adesso la competizione si fa veramente veramente dura c'è un grande fermento l'Italia purtroppo ha perso molte occasioni come sistema paese per quanto riguarda il pharma per esempio noi siamo un eccellente produttore abbiamo delle grandi produzioni ma abbiamo perso molte occasioni di ricerca e sviluppo cioè di creare nuove realtà quindi questo è un qualche cosa che però possiamo controbilanciare io semplifico ovviamente insomma da una vivacità di imprese che c'è e che e di investimenti in questo momento che anche seguono che fa ben sperare certamente in questo in questo contesto quanto è importante poi che vi sia anche a livello europeo una una consapevolezza e una collaborazione è fondamentale è fondamentale e infatti noi nel nostro piccolo come cluster stiamo aderendo anche a delle reti europee gioco forza perché ci sono anche lì delle altre realtà che hanno bisogno di alcune cose che per esempio noi abbiamo ma che sono in grado di offrire tante altre quindi questa complementarietà esiste sicuramente a livello europeo e ci sono molte risorse che bisogna andare a a prendere e e ancora su questo ultimamente proprio la regione con anche con delle altre iniziative su Bruxelles sta cercando di coordinare non soltanto il cluster scienze della vita ma anche altri cluster ad approcciare il tutto a un livello europeo perché naturalmente alcune cose importanti ormai passano solo di là e quindi bisogna esserci essere presenti attivi anche con proposte in modo tale da forse lì noi abbiamo anche perso non voglio dire qualche treno ma insomma sì non lo so mi sembra che certi paesi da un certo punto di vista siano stati più attenti a queste cose però insomma questo come diceva il barman di Irma la dolce è un altro è un altro discorso insomma prossimi appuntamenti del cluster diciamo sotto questo punto di vista diciamo ce ne sono parecchi è un periodo molto molto intenso adesso partirà appunto il bando questo terzo diciamo il terzo è appena partito da ieri quindi diciamo stiamo raccogliendo e quindi questo è un bando che è a Sportello sarà aperto dal primo luglio fino a fine settembre la valutazione sarà molto rapida quindi sarà un sì o un no su una serie di parametri in modo tale da poter far partire evidentemente le progettualità questa è anche un'altra cosa che la regione ci ha affidato e stiamo mantenendo i tempi fra poco permetteremo alle 11 vincitrici che appunto sono state svelate da qualche giorno ieri premiate di partecipare al diciamo all'altro bando per poter trovare il partner locale con cui realizzare le proprie le proprie idee questi sono i prossimi punti e poi non ci dimentichiamo comunque che abbiamo identificato ben altre 60 imprese che vogliamo in qualche modo coccolare seguire molte sono appunto sempre da fuori regione e quindi se non è questa l'occasione il messaggio che noi diamo a tutti in maniera molto forte anche a coloro diciamo perché sul 65 11 hanno vinto quindi tutti gli altri sono scontenti ecco questo è capibile ma ci saranno ripeto altri bandi altre occasioni ci sarà una seconda edizione anche di questa call for a EDS quindi è un qualche cosa che per i prossimi tre anni avrà una continuità e questa è la cosa positiva che permette di pianificare il tutto cioè non c'è fretta se non riesco a vincere adesso posso si può ripresentare si può migliorare miglioreremo anche noi se sarà il caso qualche strumento con qualche dettaglio quindi questo diciamo è un qualche cosa che è l'inizio di un percorso grazie dottor De Monte per essere stato con noi noi domani seguiremo all'interno se vogliamo di Trieste in diretta ma già cominceremo alle 16 la presenza del Presidente Mattarella all'inaugurazione della settimana sociale dei cattolici in Italia quindi Trieste in diretta ci sarà in maniera un po' particolare e andremo avanti fino alle 19 grazie ancora ci vediamo quindi domani già alle 16 e poi con Trieste in diretta normale giovedì alle 18 grazie a tutti Grazie.